Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika, vi aspettano per l'evento musicale dell'anno. Eurovision Song Contest 2022, il 10, 12 e 14 maggio, su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2. Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika, vi aspettano per l'evento musicale dell'anno. Eurovision Song Contest 2022, il 10, 12 e 14 maggio, su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2. Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika, vi aspettano per l'evento musicale dell'evento musicale dell'evento musicale dell'evento musicale dell'evento musicale. Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika, vi aspettano per l'evento musicale dell'evento 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 musical